Sulle elezioni comunali si parla molto di Roma, ma io ho citato anche Napoli, lì c'è un bello spazio, io rimetto la domanda, non è che per caso adesso che non è più ministro si può valutare una candidatura? Ma insomma, bella domanda, io fino a che sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità perché stavo facendo un lavoro, poi insomma ognuno potrà giudicare il lavoro che ho fatto. Non è come Arcuri, è una battuta, poteva fare otto cose insieme. No, già una c'è tanto diciamo, e poi penso che è meglio fare una cosa una volta fatta bene o provare a farla bene. È una sfida vincente, quella di Napoli potrebbe essere una sfida vincente, non so ancora quali saranno appunto le regole in base alle quali si deciderà, però diciamo che a questo punto, mentre fino a quando ero ministro lo escludevo categoricamente, adesso vediamo, vediamo quale sarà il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, però è comunque una città dove sono nato, dove sono cresciuto, quindi potrebbe essere sicuramente una sfida vincente, ma vediamo, vediamo cosa succede alle prossime settimane. Vediamo, però non la esclude. I rapporti con chi è uscito dal Movimento, che tra l'altro sono anche rapporti...